Scoperto in un casolare il market della droga. Due pusher sono finiti in manette, sequestrati oltre un chilo tra cocaina, marijuana, hashish e la cosiddetta droga dello stupro. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto due persone in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare la compagnia della Guardia di Finanza di Pozzuoli riscontrando un continuo andirivieni tra la piazza di spaccio di Licola e un casolare abbandonato a Pozzuoli ha controllato un giovane mentre era a bordo della propria auto trovandogli addosso diverse dosi di cocaina e 490 euro in contanti mentre nel bagagliaio un proiettile calibro 9. Nel corso della successiva perquisizione del casolare sono stati poi sequestrati 646 grammi di hashish, 516 di cocaina, 150 grammi di shabu, la cosiddetta droga dello stupro e 12 di marijuana nella disponibilità di un cittadino africano 23enne del Benin. Sono stati sottoposti a sequestro anche il materiale e la strumentazione destinati alla preparazione delle dosi come bilancini, taglierini e bustine. L'operazione rientra nell'ambito della costante attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti svolta dai riparti del gruppo di Giuliano in Campania nell'area Flegrea.